non è proprio un cane da boschi però insomma lei ci prova fino a quando non si stanca lei ci prova a farsi la sua adesso è un po' da che non andiamo dai boschi nei boschi da un bel po' perché facciamo questo giretto lei è una che si stanca presto nel senso che dopo massimo mezz'ora di cammino da stanca però adesso ci prova un po' adesso a voglia perché lei nei boschi annusa sente gli odori degli altri cani e si diverte a modo suo giusto cicci è vero adesso non mi caga perché l'obiettivo che facciamo questo percorso ogni tanto lei va ok 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 grazie a tutti